Bartoccini, Perugia, attese da un derby molto delicato contro Zambelli Orvieto nel giorno di Pasquetta. Tutto questo dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato che ha risollevato sicuramente la situazione in casa perugina per evitare la retrocessione. Finale di stagione ad alta intensità per la Bartoccini-Gioielleria Perugia che continua la sua corsa a salvezza nel campionato di pallavolo di Serie A2 femminile. Primo appuntamento in ordine di tempo a Pasquetta lunedì prossimo 2 aprile tra le mura amiche del Palevangelisti per il derby tutto umbro con le cugine della Zambelli Orvieto. Le due squadre sono separate da 28 punti in classifica. Orvieto è nona con 50, mentre Perugia è quindicesima con 22 punti. Ma al di là del valore aggiunto che un derby può avere, l'obiettivo è fare punti per arrivare con maggior tranquillità al finale di stagione. Sera una settimana molto impegnativa, però dobbiamo lasciare tutto in campo. Questa è l'ultima opportunità, ogni partita dobbiamo arrivare e dire questa è l'ultima opportunità che abbiamo, prendere una partita alla volta e cercare di fare il meglio possibile. Dopo il derby casalingo, gli appuntamenti ravvicinati proseguiranno infatti con una doppia trasferta giovedì 5 aprile per la partita di recupero a Marzala e domenica 8 sempre in trasferta contro Baronissi. Grazie per averci seguito.